ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchikagimer che vi parla e siamo tornati su dark siders 3 siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta o meglio siamo qui nel come caspita si chiama nelle anticamere comunque del luogo dove abbiamo ottenuto la forma fuoco e siamo qui che dobbiamo risolvere questo enigma e spero di riuscire a farlo prima o poi vediamo se riesco a farlo non è partito porca boia ok sbagliato ho aspettato troppo allora perché devo riuscire a farli suonare contemporaneamente ok ce l'ho fatta ok no perché faccio queste stanze sembrano fuori posto sono antiche non di fattura demoniaca o angelica i primi umani forse forse sono intelligente mia signora ma nemmeno io so tutto aia bomba prime anime per noi e oggettino frammento arcano grazie ok ok riuscito ad andare avanti e tu cosa vuoi eh ok andiamo da qualche parte sicuro questo va allora qua ci deve essere qualcosa anche non è possibile che ce n'è uno di questi a tempo e non ce ne sia tipo un altro però qui c'è qualcosa qui cavolo ah che ce l'ho fatta oggettino frammento frenesia ok ok grazie mille volevate tenermi un agguato eh prezzacci di cacca e mo? e questi? qui ci deve essere un passaggio un qualcosa da qualche parte aspetta ma qui c'è una fessura non l'avevo vista ok maledetti volevate eh volevate farmela e me l'avevate quasi fatta fortuna mi ammasso di scheletri datemi le vostre anime però lì c'è qualcosa ma non so come andarci ci deve essere qualcosa qui di sicuro se no perchè portarmi qui? e a te come ti abbatto però? aspetta ehi e questo passaggio? ero convinto che non ci fosse più niente ecco eccola la sala un masso di spettri ok abbiamo sbloccato la shortcut ok ok uh la possiamo usare? fantastico vediamo questi cristalli questi cristalli sono resistenti degli altri sono come spade perchè ho come l'impressione che tu veda un'arma in ogni cosa mia signora perchè sei più furba di quanto sembri quelle statue e qui ok 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 ce l'avevamo fatto ma sono tornati anche normali di fuoco olè un altro quindi tre spade in tutto a quanto pare sempre tre prego tre chiavi tre pietre tre spade piuttosto prevedibile non trovi sei per caso solo che odio quando volano cercare da scocciare ok ok la oh questo da dove è arrivato ok lì ce n'è uno potenzia tutto qualcosa quindi qua cosa abbiamo ah ma siamo sulla torre quindi mi sa che una spada dobbiamo trovare due spade ancora forse perché dobbiamo tre che già di adamantica qui sotto c'è una fessura che mi porta chissà dove ah ok questa è la fessura che vedevamo da sopra ok da dove non potevamo andare perfetto ok allora poi qua così ah di qua siamo arrivati dall'altro lato ok una spada è lì dentro allora io provo a fare questo lato per adesso voglio vedere se c'è qualcosa no ma c'è niente ah cavolo c'è quello lì e come lo affronto scusi ma scusi signore dico a lei buon uomo vero che se non l'attacco lei non mi attacca ah ok qua c'è una stanza ah ok qua c'è una stanza ok ok frammento guarigione scusate ma qui dove siamo non mi toccate non mi toccate gozzi gozzi ahia C'è un po' Avete rotto voi con le frecce Ok E mo Si sta girando una stanza Cosa abbiamo dall'altra parte? Scheletri Non ho mai davvero fatto fatica contro di loro Questa porta non si apre Ah lì devo Scusi permesso? Ok E adesso portiamo la spada di là Scusi lei è ma Ok Ora manca l'ultima spada Il che vuol dire che deve trovarsi qui da qualche parte Dove non siamo andati di lì? Hop E ora andiamo di qui Bravo bravo prega prega Boom Questo è nostro Un grumo di spettri Bella Molto guidato Devo dire questo percorso Si davvero tanto guidato Però Allora Sicuro qui c'è qualcosa Che mi sono perso Manca è il balordo Gran pezzo De put Oh Uppero in arma Pura li odio Io veda c'è questo enigma di fuoco lì Ok Ok Allora Proviamo un attimo Sono andato un attimo al bagno Allora A fare sta cosa Uh ce l'ho fatto Ok No perché io sbagliavo il tempismo Perché lo lanciavo sta a fare Ok Ora ci sono questi Ok e mo fantastico qua allora c'è un tasto deve essere qui dentro eccola qui l'ultima spada ok ok apriti cancello ok ma ci sono tutte e tre le spade mi scusi signora ecco lei e ora no 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 allora quello non mi ha fatto niente quindi non lo devo affrontare giusto credo di sì allora vediamo se qua devo andare su sì ok qua vado su ok si è fatto il ponte si è fatto il ponte e dove andiamo da sto ponte oh c'è una caverna lì lì non c'è niente andiamo giriamo mia signora silenzio lo senti? non è quello che cerchiamo proseguiamo aspetta il creatore non gli devi nulla lo so ma voglio che sia lui a dovermi qualcosa piano piano posso portarti dai tuoi simili umani non ti sembra una buona idea? e che è sto robo? chi è? io scappi nano finiti? però audaci per attaccarmi voilà un salto e boom boom aha oppala vediamo aspetta ma ora dove devo forse di là qua qua oppala oh wulgrim niente raga non ci sarà visto ma sono andato da ultane ma non ho avuto nulla per cui andiamo avanti un pochino ancora chi è che mi ahia questi non sono affatto bambini questi sono dei piromani professionisti secondo me io però sono cascato come torno su senti nano pestifero già capito devo fare tutto il giro mi prendere st'affare che adesso vi vengo a sculacciare qua devo evitare i cavi a sculacciare a sculacciare Sì! Ok Dovrei averli Sistemati Credo Ma prendo un po' gli oggetti Chi è che ha lanciato Pestifero maledetto Chi è che ha lanciato Qua non c'è più niente A parte gli oggetti qua A parte gli oggetti non mi pare di vederne nessun altro Di sti cose più Serio Ah guarda dove si è nascosto Dannato Ok Vediamo un po' Qui cosa c'è Ah Ok Vediamo un po' Di papà dove chi è? qua c'è un dinosauro siamo in una specie di museo ok vabbè ragazzi vorrà dire che ci rivedremo nel prossimo episodio io come sempre vi invito a lasciare un bel like a commentare, condividere iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima ciao belli